La storia di Antonina Mieli, dipendente di un albergo milanese, è simile a quella di tante troppe donne. Donne vittime di uomini che pensano di poter disporre della vita e della morte e di chi si dice di amare. Antonina aveva 26 anni, era nata ad Agrigento e dopo gli studi era emigrata a Milano per cercare miglior fortuna, ha trovato invece la morte. Ieri pomeriggio la ragazza era andata a casa per prendere le sue ultime cose dopo una convivenza a cui aveva deciso di mettere la parola fine. L'ultimo incontro con il suo ex convivente, che non si rassegnava alla fine della relazione, è finito in tragedia. Francesco Di Graci, 34 anni, piegato delle poste, in preda alla follia, ha coltellato la donna. Il dramma si è consumato a Santonato Milanese, in provincia di Milano. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Di Graci, una volta cacciata l'amica che accompagnava la Grigentina e chiuso la porta a chiave, armato di coltello, si è scagliato contro la ragazza, colpendola con numerose coltellate all'addome e al collo. La giovane ha cercato di salvarsi lanciandosi dal balcone dell'appartamento al primo piano di via Giovanni di Vittorio. È stato a quel punto che Di Graci avrebbe deciso di farla finita. Si è cosparso di benzina, poi si è dato fuoco con un accendino. Quando i vigi del fuoco sono arrivati sul posto, per lui non c'era più nulla da fare, ma le fiamme stavano per arrivare a un'altra tannica di liquido infiammabile che è stata spostata in tempo, prima che esplodesse. Antonina Miele è stata trovata di militare dell'arma a terra sulla strada in una pozza di sangue. La ragazza era ancora viva e con le poche forze rimaste chiedeva aiuto. Trasportata d'urgenza in ospedale, morta qualche ore più tardi a causa delle gravi ferite riportate.